buongiorno a tutti lettrici e lettori bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video io sono Alessia e qui su Library parliamo di libri oggi facciamo il wrap up del mese di giugno quindi vi racconto tutte le letture fatte durante il mese scorso non so voi ma io avrei un sacco di libri da leggere ho un sacco di idee, un sacco di cose che vorrei fare ma questo caldo mi sta veramente sfiancando sto leggendo meno del previsto fondamentalmente perché mi abbiocco, mi addormento faccio fatica ad essere energica, ad essere produttiva comunque libri letti a giugno 5 di alcuni di questi vi ho già parlato perché si tratta dei candidati al premio strega quindi ormai lo sapete andrò più veloce per quanto riguarda questi titoli e mi soffermerò invece maggiormente sui titoli di cui non vi ho ancora parlato prima di entrare nel vivo di questo video mi raccomando se anche voi amate i libri e vi piace leggere iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare sempre aggiornati con i miei contenuti qui sotto in infobox vi lascio anche i link ai miei social e i link per acquistare direttamente su Amazon i libri di cui parlo nei miei video se infatti vi va di leggere un libro che vi ho consigliato io che avete scoperto grazie a me e lo acquistate passando attraverso i miei link per voi non cambia nulla ma io ricevo una piccolissima commissione sull'acquisto che mi aiuta a sostenere il canale acquistando altri libri e sempre qui sotto trovate anche il link alla mia wishlist sempre su Amazon partiamo con i titoli del premio strega a giugno ho letto Nova di Fabio Bacà edito Adelphi sicuramente uno dei candidati migliori al premio strega di quest'anno il protagonista di questo romanzo è Davide un neurochirurgo che conduce una vita agiate tutto sommato appagante che un giorno assiste ad un atto di violenza le cui vittime sono sua moglie e suo figlio l'uomo assiste impassibile a questo episodio senza riuscire a reagire questo episodio innesca nel personaggio, nel protagonista una serie di riflessioni perché Davide comincia a chiedersi se sia giusto reprimere il proprio lato aggressivo il proprio lato animalesco quando l'aggressività, la violenza, l'istinto fanno parte di noi noi siamo gli stessi uomini che vivevano nelle caverne mentre l'educazione e la cultura hanno contribuito a soffocare questo nostro lato questa parte di noi e quindi il protagonista si chiede quanto sia giusto questo sbilanciamento a favore della cultura a discapito della natura un romanzo quindi interessante per le tematiche che affronta ma che si distingue anche per una scrittura molto raffinata Fabio Bacca utilizza una sintassi molto ampia, complessa e un lessico molto raffinato, molto ricercato tra i candidati letti finora sicuramente questo è il più letterario posto che però non ho ancora recuperato stradario aggiornato di tutti i miei baci che staziona sul mio comodino ma credo che lo recupererò più avanti quando magari avremo occasione di parlare anche del premio Campiello Nina sull'Argene invece è un libro di cui ho sentito parlare piuttosto male mi aspettavo il peggio e invece in realtà non è andata così male la protagonista è Nina, un ingegnere a cui è stata affidata la direzione di un cantiere finalizzato alla costruzione di un argine quest'argine si trova in pianura padana e dovrà proteggere il centro abitato dalle piene del fiume che continuamente durante la brutta stagione lo minaccia l'ambientazione è quella della pianura padana ma il paese in cui è ambientata la vicenda è frutto della fantasia dell'autrice Nina sull'Argene è un romanzo che riflette sulle difficoltà che le donne incontrano nel momento in cui svolgono dei lavori che sono considerati prettamente maschili infatti Nina dovrà collaborare con i suoi colleghi uomini che faticano ad accettare il suo ruolo e faticano a riconoscere diciamo in lei la direttrice del cantiere quindi si affronta proprio questa tematica e Nina dovrà pian piano man mano farsi valere a questa tematica se ne intreccia poi un'altra di carattere più sentimentale esistenziale infatti Nina è appena stata lasciata dal suo compagno quindi l'argine che Nina deve costruire non è solo un argine fisico ma anche un argine metaforico perché Nina dovrà in qualche modo ricostruire la sua vita tenere insieme diciamo i cocci della sua vita e quindi sopportare resistere alla piena che l'ha letteralmente investita ho apprezzato molto le parti in cui si descrive il lavoro di Nina in cantiere mentre non ho gradito particolarmente le parti in cui ci si focalizza sulla situazione sentimentale della protagonista la lingua non mi ha fatto impazzire perché l'ho trovata un po' troppo emotiva, un po' troppo melanconica ma si tratta ovviamente di gusti personali se cercate un maggior approfondimento su questi due titoli quindi su Nina sull'argine e su Nova di Fabio Bacà vi rimando al video a tema premio strega che ho pubblicato poco fa sul canale ve lo lascio linkato sia qui sopra nelle schede sia qui sotto nell'infobox terzo romanzo letto a giugno l'ultimo giorno di un condannato di Victor Hugo ebbene sì non mi sono ancora ripresa dalla ugomania dopo la lettura dei miserabili e sto anche meditando di iniziare subito Notre Dame de Paris però per ora concentriamoci su questo titolo Victor Hugo pubblica questo romanzo nel 1829 ed è un romanzo contro la pena di morte l'autore era infatti fortemente contrario alla pena capitale e in queste pagine si cala nei panni di un uomo che appunto è stato condannato a morte e cerca di descrivere i suoi ultimi giorni di vita il romanzo è strutturato come un diario che il protagonista che l'uomo scrive appunto durante i suoi ultimi giorni e Victor Hugo cerca di farci toccare con mano l'angoscia, la paura, il terrore che attanagliano l'animo di quest'uomo infatti il pensiero della morte, il pensiero che dovrà morire consuma letteralmente quest'uomo è il primo pensiero al risveglio e l'ultimo pensiero prima di addormentarsi ci sono delle pagine davvero molto molto commoventi in particolare vi è un passaggio in cui il protagonista incontra la figlia la figlia è molto piccola quindi già non lo riconosce più e l'uomo è consapevole del fatto che la figlia non si ricorderà mai di lui e che non avrà il minimo ricordo di lui e ho trovato questa parte davvero molto molto straziante anche nei miserabili Victor Hugo ovviamente riflette sul tema della prigionia, della giustizia, della condanna non peraltro il protagonista è un ricercato ex forzato e all'interno di miserabili si sottolinea come spesso il reo abbia compiuto dei delitti non perché sia cattivo ma perché la stessa società con le sue ingiustizie, con le sue storture lo ha indirizzato sulla via del delitto, sulla via della delinquenza qui non c'è questo tipo di riflessione il protagonista dice di essere colpevole ammette apertamente di essere colpevole ma non ci dice di cosa è colpevole quindi non ci viene spiegato che cosa l'uomo ha fatto e perché lo ha fatto ma ci si vuole proprio focalizzare sulla pena di morte in sé e si vuole proprio sottolineare come questa sia una pratica crudele anche solo per l'agonia che un condannato a morte deve patire durante le sue ultime settimane di vita quando ormai sa che i suoi giorni sono contati e che il suo destino sarà quello di andare alla ghigliottina molto bello tra l'altro brevissimo si legge nell'arco di un paio d'ore quindi sono felicissima di averlo recuperato sto meditando appunto su Notre Dame de Paris quarto titolo di giugno abbiamo sempre vissuto nel castello di Shirley Jackson l'ho ascoltato in formato audiolibro quindi vi lascio la copertina qui di fianco ho scelto di leggere questo libro perché ho dovuto viaggiare in auto e quindi volevo ascoltarmi un audiolibro che non fosse troppo lungo insomma che mi tenesse compagnia durante il tempo del viaggio mi sono imbattuta in questo titolo che è disponibile su Odivo e quindi ho deciso di ascoltarlo io ho scoperto dirò la verità Shirley Jackson abbastanza di recente e infatti ho letto soltanto l'incubo di Hill House oltre a appunto abbiamo sempre vissuto nel castello e quando ho iniziato abbiamo sempre vissuto nel castello mi aspettavo qualcosa di simile all'incubo di Hill House mi aspettavo di ritrovare non dico le stesse dinamiche ma comunque non so perché mi ero immaginata che anche questo titolo parlasse in qualche modo di fenomeni di presenze paranormali e quindi quando ho iniziato l'ascolto ho passato diciamo i primi capitoli ad aspettare insomma che queste presenze paranormali si rivelassero in realtà abbiamo sempre vissuto nel castello è diverso rispetto all'incubo di Hill House quindi non ci sono fenomeni paranormali niente di tutto ciò la storia è raccontata in prima persona da una ragazzina di nome Mary Catherine Mary Catherine vive praticamente da reclusa insieme alla sorella maggiore Constance e insieme ad uno zio invalido in una grande villa di proprietà della sua famiglia la famiglia Blackwood lo zio e Constance non escono mai di casa l'unica ad uscire di casa è proprio Mary Catherine una volta a settimana per la spesa e questo appuntamento settimanale è vissuto con ansia da parte della protagonista perché gli abitanti del paese e gli abitanti del villaggio non vedono di buon occhio la famiglia Blackwood infatti sia gli adulti sia i ragazzini al suo passaggio la prendono in giro la stuzzicano e quindi i tre vivono praticamente da reclusi si sono creati una loro routine e raramente ricevono visite fin qui tutto bene se non che si scopre che gli altri componenti della famiglia Blackwood sono morti sei anni prima avvelenati avvelenati con l'arsenico mescolato allo zucchero quindi i genitori delle due sorelle il fratello e la moglie appunto dello zio invalido sono morti per avvenenamento inizialmente Constance quindi la sorella di Mary era stata accusata dell'omicidio invece successivamente è stata assolta l'idilliaco ma allo stesso tempo inquietante equilibrio di questo trio viene rotto quando arriva a casa Blackwood il cugino delle due sorelle Charles cugino che vuole a tutti i costi sposare Constance per mettere le mani sulla sua eredità il romanzo è sicuramente molto molto avvincente anche se devo dire la verità mi aspettavo qualche picco di tensione in più anche perché ad un certo punto comunque si intuisce la verità il mistero che sta dietro la morte diciamo dei familiari delle sorelle Blackwood invece azzeccatissima la scelta di raccontare la storia dal punto di vista di Mary Catherine Mary Catherine di fatto è una bambina disagiata come vi dicevo prima completamente distaccata dalla realtà persa nel suo mondo è un po' la versione inquietante di Luna Lovegood mi ha ricordato vagamente questo personaggio bellissima poi anche l'atmosfera cupa, claustrofobica legata appunto alle abitudini, alla routine di questi tre personaggi che vivono all'interno di questa casa dove tutto deve restare com'è dove niente deve cambiare dove le abitudini e i piccoli riti i piccoli gesti quotidiani sono sacrosanti come vi dicevo prima qui non ci sono fenomeni paranormali o fenomeni sovranaturali il male e l'orrore si annidano esclusivamente all'interno dei personaggi e tra l'altro non è nemmeno possibile separare distintamente tra buoni o cattivi tant'è che alla fine del romanzo il lettore si trova un po' spiazzato perché prova sentimenti contrastanti da un lato compassione e dall'altro invece orrore di sgusto quasi ho preferito questo all'incubo di Hill House forse perché in quel caso già sapevo alla perfezione cosa aspettarmi mentre abbiamo sempre vissuto nel castello è stata una sorpresa quindi se ancora non l'avete recuperato super consigliato ultimo titolo di giugno Nudi e crudi di Alan Bennett sempre ascoltato in formato audiolibro quindi cosa è successo? praticamente durante il viaggio di andata mi sono ascoltata più della metà di abbiamo sempre vissuto nel castello al ritorno mi mancavano ancora due ore di viaggio avevo già finito Shirley Jackson e quindi mi sono messa velocemente alla ricerca di un audiolibro breve e quindi ho deciso di leggere Nudi e crudi tra l'altro ho letto da poco la sovrana lettrice mi ero ripromessa di leggere altri titoli di Alan Bennett e quindi perfetto Nudi e crudi è un romanzo molto divertente i protagonisti sono due signori di mezza età è una coppia di mezza età lui fa l'avvocato lei fa la casalinga se non sbaglio e una sera di ritorno dal teatro trovano la casa completamente vuota quindi il ladro non solo si è impadronito ha sottratto gli oggetti di valore ma ha sottratto qualsiasi cosa quindi dal divano al letto ai mobili della cucina addirittura i due si trovano senza carta igienica e quindi si chiedono innanzitutto chi possa essere stato a giocare loro questo brutto tiro ma soprattutto devono in qualche modo cercare di ridare forma alla loro casa e questo evento quindi questo furto diciamo innesca reazioni diverse nei due perché l'uomo ha un carattere burbero rigido è sempre serio pedante e è anche poco incline diciamo a riconoscere le proprie debolezze i propri peccatucci diciamo mentre lei è molto più spensierata molto più accondiscendente quindi lui vorrebbe ricostruire la sua casa come era prima e vorrebbe aggrapparsi al passato lei invece vede in questo furto diciamo l'occasione per sperimentare cose nuove quindi per comprare mobili di colore diverso per guardare programmi televisivi nuovi per frequentare negozi nuovi insomma se l'uomo vuole ricostruire la routine che avevano prima del furto la donna invece vede in questa situazione un'occasione per ravvivare un po' la propria esistenza la propria vita come vi dicevo una storia divertente, umoristica ma anche un po' dolce amara perché riflette su come molto spesso l'aggrapparsi al passato l'abitudine, il circondarsi di oggetti che magari non hanno più nessuna funzione ma che sono lì semplicemente perché sono lì arrivi poi a costituire una vera e propria prigione dorata da cui poi è difficile evadere quindi anche questo librettino consigliato vi strapperà sicuramente diversi sorrisi ma allo stesso tempo vi farà anche un po' riflettere tra l'altro l'audiolibro di Shirley Jackson letto da Loredana Lipperini e l'audiolibro di Nudi e Crudi letto da Paola Corterlesi quindi top! bene ragazzi il video di oggi finisce qui mi raccomando lasciate un commento e raccontatemi che cosa avete letto voi durante il mese di giugno e che cosa ne pensate dei libri di cui vi ho parlato nel video se anche voi li avete letti io come sempre vi mando un bacione un abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video ciao!